Con le due ruote arrivi ovunque. Puoi arrivare anche a rideare sopra un red carpet, come ho fatto io. Sono Vittorio Gromotti, sono un ciclista professionista. Le due ruote sono libertà. Forse il primo momento che tagli il cordone con mamma e papà è quando prendi la bicicletta e inizi a andare. E poi ti ritrovi essere uomo e avere un cavallo di ferro e galoppare, galoppare, galoppare. La voglia di Harry Davidson è stata trasmessa da mio papà. Lui è sempre stato fissato e mi diceva che le moto, le Harley Davidson, sono le vere moto. Ci deve essere qualcosa dentro. Quel logo è un brand che crea fratellanza anche a motore spento. Si Harleyisti anche intorno a un barbecue. Si Harleyisti anche quando vai a fare la barba, il barbershop. Si Harleyisti quando entri in un pub. Il nuovo Sposter, grazie alle pedane avanzate, ti dà quel senso di Harley, cioè proprio di essere stravaccato su questa moto. BAM! 120 cavalli sotto, ha un gran motore. È una moto da centro di Milano alle curve dello Selvio. Adesso invece sto sognando di avere un trentesimo di una Fatboy Total Black. E poi adesso sta arrivando la nuova gamma Harley e sto strippando. Questi nuovi colori mi fanno impazzire. Tanti dicono, beh, sai, la gamma sta cambiando, ma sta cambiando in meglio. Harley Davidson è molto trasversale ed è proprio per questo che amo questo brand. Sarà una gran vittoria. È sempre con il cuore e la passione per le HD. Una bellissima gamma, bellissimi colori e io sono pronto al cambiamento. Grazie a tutti.